Perchè con i colori morte? Perchè con i colori morte? Guarda quanto accende! Ma guarda quella subito! Perchè con i colori! Perchè con i colori morte? 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 Perchè con i colori morte Perchè con i colori morte? Perchè con i colori morte? Perchè? Grazie a tutti. 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 e a tutti. 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 a tutti.